La dieta mediterranea, come sappiamo, è una delle strategie alimentari più interessanti per mantenere la nostra salute. È una sorta di vera e propria palestra quotidiana nutrizionale per allenare il nostro corpo a stare bene. Tra i vari strumenti, i vari attrezzi che compongono questa palestra, uno dei più importanti sembra essere l'olio d'oliva. Moltissimi studi hanno dimostrato che questo condimento, al di là delle sue proprietà organolettiche, contiene e apporta al nostro organismo delle sostanze estremamente interessanti per il mantenimento della salute. L'olio d'oliva è composto fondamentalmente da un grasso mononsaturo che si chiama acido oleico, che è sicuramente una tipologia di grasso abbastanza salutare rispetto ovviamente ai grassi saturi o altre forme di grassi. È un buon apporto calorico, ma il segreto dell'olio d'oliva sembra risiedere in altre piccole sostanze non nutrienti contenute al suo interno. Si tratta di metaboliti secondari dell'oliva e appartenenti a una famiglia molto ampia chiamata polifenoli. I polifenoli dell'olio d'oliva ultimamente hanno ricevuto anche dalla comunità europea il bollino di sostanze salutistiche. È possibile vantare, per esempio, un'azione di protezione sull'ossidazione delle LDL, che sono le lipoproteine che portano il colesterolo tra virgolette cattivo, che una volta ossidate sono all'origine dell'aterosclerosi, quindi dell'invecchiamento patologico dei vasi sanguigni. Quali sono i polifenoli dell'olio d'oliva? Il più importante è quello di cui si parla di più scientificamente, l'idrossitirosolo. È una piccola molecola che ha appunto questa capacità molto specifica di proteggere i nostri vasi sanguigni dallo sviluppo dell'aterosclerosi. Non è l'unico composto, ce n'è un altro estremamente interessante, più complesso, una struttura chimica più complessa, che si chiama oleuropeina. Questa sostanza contribuisce anch'essa alla protezione dell'ossidazione delle LDL, ma ha anche una potenziale azione antipertensiva. In effetti molti studi, anche se questi studi non hanno avuto il bollino di certificazione europeo, però da un punto di vista scientifico sembrano essere abbastanza solidi, sembrano dimostrare che l'assunzione di olio d'oliva sia anche molto utile nella gestione della ipertensione primaria. Quindi un piccolo aiuto nel mantenere una corretta pressione sanguigna. Queste due cose messe assieme fanno sì che l'olio d'oliva sia un rimedio strepitoso nella prevenzione delle patologie cardiovascolari. Ovviamente non si tratta solo di questo perché le sostanze contenute all'interno dell'olio d'oliva hanno un'azione benefica globale e migliorano moltissimo tutte le situazioni collegate a patologie infiammatorie.